Il derby fra il Cesena e il Bologna non può certo vantare alle tradizioni di Torino-Juventus o di Milan-Inter, ma ha già una sua storia ricca di episodi, di motivi tecnici ed emozionali. Le due squadre sono a pari punti al quarto posto, oggi dovevano decidere a chi spettasse la supremazia regionale. Le cose sono rimaste come erano perché ci sono stati sì la degna cornice e il gioco, ma sono mancati i gol. Sul suo piatto della bilancia il Cesena mette lo slancio, il gran ritmo e la lunga pressione. Sull'altro piatto il Bologna oppone la solidità e la calma della sua esperta difesa che ha ribattuto colpo su colpo e nelle due circostanze più difficili è intervenuto provvidenzialmente il portiere Mancini. Questo è il primo grosso pericolo corso dal Bologna, siamo al venticinquesimo del primo tempo, la mezza rovesciata è di De Ponti, Mancini si salva d'intuito. Pesaula sulla panchina soffre e cerca rimedi per rallentare l'offensiva. Da un fronte all'altro dell'attacco bianconero, Ceccarelli rimette al centro per Urban che tenta la conclusione, ostacolato da Roversi. Mancini si butta anche al di là dei pali ma non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Lunga manovra di alleggerimento del Bologna nel finale del primo tempo, buono il suggerimento di Rampanti per la corrente Maselli, ma il tiro finale è abbastanza comodo per Boranga. Altro momento chiave del derby al diciottesimo del secondo tempo, sulla rasoterra di Rognoni, respinto da Mancini, si sviluppa una lunga azione del Cesena che chiama in causa diversi giocatori. Una ribattuta imperfetta offre una palla gola a De Ponti che tenta di concludere nell'angolo più vicino. Questa volta in soccorso di Mancini c'è anche il palo e Marchioro invoca miglior sorte dalla sua panchina. Continuerà poi il Cesena ad attaccare vanamente contro una difesa incrollabile.